Domenica 24 marzo alle 17 nella sala consigliare del comune di Rapallo presentazione dell'opera digitale realizzata da sei artisti di nazionalità diverse dedicata a Monsignor Romero. Quali saranno i contenuti di questa che è anche un'antologia di arti vari? Esatto, si tratta proprio di un'antologia messa insieme da sei artisti, come lei ha detto, di nazionalità diversa che hanno voluto dimostrare che si può essere uniti e volerci bene, voler collaborare anche a larghe distanze, pur abitando in nazioni diverse. Questi sono artisti non soltanto di nazionalità diverse, ma anche di espressione artistica diversa. Il primo è un pittore digitale ed ha realizzato il racconto di quest'opera con un mezzo visivo, appunto, digitale. Il secondo, un poeta che vedendo la sua opera è rimasto colpito e molto favorevolmente, conosceva già la storia di Romero, ha deciso di ispirarsi ad ogni opera del collega artista per esprimersi con la sua arte che è la poesia, per cui abbiamo quadro e poesia che corrispondono al momento in cui si vuole incidere, al momento in cui si vuole raccontare. Ne è scaturito un quadro, diciamo così, della personalità di Monsignor Romero, ma soprattutto che cosa della vita di Monsignor Romero ha colpito questi artisti? Senz'altro la sua scelta di una causa precisa a favore dei poveri, a favore degli umili, a favore dei colpiti dalla guerra, tanto che ha preso decisione anche contro il governo ed è stato proprio lì che anche la Chiesa ha avuto qualche sospetto perché sembrava non conveniente, ma lui ha voluto sfidare qualsiasi rischio ed era appunto il rischio della sua stessa vita, come si è visto. La data 24 marzo è quanto mai significativa, è la data del martirio di Monsignor Romero, dunque sarà un modo speciale per ricordarlo? Certo, lui è stato ucciso mentre celebrava la Santa Messa e il modo per ricordare questo è quello di colpire l'anima della gente, cercare di tirarla fuori perché senta qual è stato veramente questo momento drammatico.